Il Napoli lavora su quattro colpi di mercato prima della conclusione del mese di agosto con la necessità di rinforzare ogni reparto. In tali operazioni non si considera Lukaku, il quale osserve interessato il futuro di Victor Zimén. Il direttore sportivo Manna avrebbe messo gli occhi su Brescianini. Del centrocampista se ne è discusso ampiamente nelle scorse settimane con il frosinone proprietario del cartellino che sicuramente non bloccherebbe l'operazione in uscita. Servirebbero 12 milioni di euro per portarlo a Napoli. Altra pista riguarda Gilmour con l'arrivo condizionato però dalla partenza di Cajuste. Se non si riuscisse a piazzare lo svedese allora sarebbe difficile poter ipotizzare che si possa lavorare in entrata. Discorso diverso invece per l'attacco con Berardi che rappresenta una possibilità per il Napoli. Il sassuolo è retrocesso in serie B ed il forte calciatore neroverde può rappresentare un'occasione a cifre modiche. Con l'addio di Lindstrom sarebbe la soluzione naturale per Antonio Conte in fase offensiva. Si chiude con David Neres attaccante del Benfica reduce da una stagione in cui ha segnato 5 gol in 24 presenze. Sicuramente non una prima scelta ma un'ottima alternativa come riserve in attacco.